Stiamo scollinando in termini ciclistici, ci siamo quasi, però bisogna prima che sia la matematica che sancisce. Comunque no, siamo veramente contenti, io sono contento soprattutto per i miei ragazzi e per la città di Bologna, che era da tanto tempo che aveva voglia di avere una squadra di questo tipo, che lotta, che lotta e che non molla mai. Adesso arriva la firma sul contratto di rinnovo, Malesani? No, no, sul contratto non... C'è un'intesa però, no? Ma no, sì, abbiamo un'intesa da tempo con anche gli attuali proprietari, chi ha salvato il Bologna, però è stato proprio l'ingegner consorte che a me, in un incontro che abbiamo avuto, mi ha detto ci rivediamo primi di aprile, sperando che ci sia la matematica salvezza e dopo ci metteremo giù a parlare. Ma intanto è importante il Bologna, bisogna antepore il Bologna a tutto, dopo vedremo.